Quel tale non è vissuto a lungo, ma è stato al mondo a lungo. C'è una bella differenza, dice Seneca, tra vivere a lungo e stare al mondo. Non il Dio vixit, se Dio fui, quello che conto è vivere, non essere. C'è una bella differenza. Questa concezione qualitativa del tempo è ossessionante di Seneca. Seneca dice, cosita sempre qualis, non quanta vita. Pensa sempre a quale sia la tua vita, non a quanta, la qualità. Il bene della vita, bondite, positum est, non in spazio se in uso. Il bene della vita sta non nella sua dorata, ma nella sua utilizzazione. Arriva a dire Seneca che non c'è per il saggio nessuna differenza, né l'interesse inter diem et seculum. Se quello che conta è la qualità, l'istante contiene l'eternità. Non c'è nessuna differenza.